Buongiorno Fagnano, eccoci con il video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Diamo alcune notizie. La Regione Lombardia il 5 giugno 2023 ha approvato la misura dei nidi gratis, è un bonus riguardante l'anno 2023 e 2024, stanziato per risorse per le famiglie con i figli che frequentano gli asili nido. È possibile richiedere il contributo per l'abbattimento dei costi della retta degli asili nido. Come si fa a richiedere questo contributo? Bisogna andare sul sito di Regione Lombardia nella sezione dei bandi online. La seconda notizia riguarda il bonus bebè del Comune di Fagnano Luna, la Giunta Comunale con la delibera numero 135 del 26 settembre 2023 ha stanziato una parte dei soldi del 5 per mille per questa misura che è appunto il bonus bebè. Per accedere e quindi richiedere la misura bisogna andare sul sito internet del Comune, essere muniti di speed e utilizzare il servizio istanze online. Domenica questa c'è la commemorazione di Mauro Benegoni, martire comunista antifascista che si terrà presso il Cippo nel Comune di Cassano Magnago. La manifestazione inizierà alle ore 10, il Comune di Fagnano Luna sarà presente col gonfalone e un rappresentante comunale. Faccio presente che il 1 di novembre e il 2 di novembre sono giornate di commemorazione che si svolgono al cimitero, l'1 è festa giorno dei Santi, quindi il Comune di Fagnano è chiuso tutto il giorno, mentre l'1 e il 2 il cimitero seguirà un orario straordinario proprio per consentire un maggior afflusso di persone nella giornata dedicata ai nostri defunti. Il 1 di novembre che è comunque festa, si dovrebbe svolgere normalmente in Piazza della Repubblica, Piazza Mercato, il mercato settimanale. Non mi resta altro di aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti!